Buon pomeriggio Baldigioni, buon pomeriggio. Oggi si chiude definitivamente il capitolo Lukaku. Sì, giocatore ha concluso da poco la prima parte delle visite mediche svolta presso la clinica Columbus di Milano. E' a fretta, a fretta, a fretta di raggiungere i nuovi compagni, a fretta perché dopo domani, mercoledì, si gioca una partita importante, alla finale di Supercoppa Europea, si gioca Chelsea-Villa-Reale e lui vuole esserci. Quindi, buona fortuna, mettiamo la parola fine, è arrivato il momento di guardare avanti. E quindi l'Inter infatti si appresta in questo momento a ufficializzare Edin Dzeko. Manca per l'appunto l'ufficialità, ma Edin Dzeko sarà il primo e mi auguro non unico rinforzo per l'attacco nero-azzurro. E infatti avanzano anche altre trattative. E parliamo di tutto questo, parliamo di Edin Dzeko, di cosa rappresenta per me, di cosa potrebbe rappresentare per l'Inter, dell'Ira che ha sollevato verso il popolo Dano, che ha sollevato il popolo giallorosso. E niente, una cosa alla volta, altrimenti ci perdiamo. Prima però, come al solito, vi invito a lasciare un like, un like così se volete anche altri video in giornata. e vi invito a iscrivervi al canale e vi ringrazio perché il vostro sostegno, il vostro appoggio, ragazzi, è importantissimo e non manca. Quindi è giusto che io vi ringrazio e vi invito a scaricare l'app OneFootball che è gratuita, che vi permette di aggiornarvi a H24 sulle varie news di mercato, ma non solo. Attenzione perché fra poco vi parte la Serie A e quindi in base ai contenuti che più vi aggradano, OneFootball vi informa sulle varie formazioni, i gol, tutto quello che vi pare. E quindi, ragazzi, che dire? Se volete scaricatelo. Allora, Edin Dzeko, chi mi segue da tempo lo saprà già. Io sono un estimatore, un estimatore, un innamorato, uno di quelli che si è scottato per Edin Dzeko. I tifosi romanisti che mi seguono da tanto tempo potranno confermare. È un attaccante moderno, è un attaccante che a me piace, è un giocatore che fa massimizzare la prestazione dei compagni, di chi gli ruota attorno. E questo è Edin Dzeko. Poi sul discorso anagrafico, è vero, all'Inter di Dzeko arriva tardi. All'Inter di Dzeko arriva con due, tre anni di ritardo, perlomeno. E questo dispiace. Indubbiamente sì, ma attenzione, attenzione. Si fa presto a etichettarlo come finito, si fa presto a etichettarlo come bollito, ma non è così. Edin Dzeko è un giocatore integro. Basta pensare che anche l'anno scorso, quasi sempre in campo, soltanto due o tre partite consecutive ha dovuto saltare per un problema agli adduttori, se non vado errato. Però per il resto, sempre a disposizione. È un giocatore che sta bene, è un giocatore integro. Cioè, nonostante l'età, è un giocatore prestante. Poi, oddio, può succedere qualsiasi cosa. Ma al momento è un giocatore integro. Quindi, età, 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 ok. Ma io credo che Edin Dzeko possa dare tanto all'Inter. Possa sicuramente rappresentare un valore aggiunto. Il problema è confrontarlo con Lukaku. Questo è il problema. Ecco perché non può essere l'unico rinforzo per l'Inter. Non può essere l'unico rinforzo per l'Inter perché l'Inter con Lukaku aveva un attaccante da 35 gol stagionali. E lo dicono i numeri. Con Dzeko hai un attaccante da 10-15 gol stagionali. Quindi ecco perché Edin Dzeko non può essere l'unico rinforzo per l'attacco dell'Inter. Su questo siamo d'accordo. Però con Edin Dzeko già viene meno un timore che avevo. Quello che riguardava il partner lì davanti. Il Toro Lukaku e il Toro Lautaro. Scusate, questo è un chiaro lapsus freudiano. Ancora sto lì a pensare al passato ma devo pensare al futuro. Lautaro. Ecco avevo tanto paura perché con Lukaku formava una coppia esplosiva. E attenzione perché il partner è importante non solo nella vita quotidiana. Anche nel calcio il partner è importante. Ti dà quel qualcosa in più. E con Dzeko sono tranquillo che comunque Lautaro riuscirà comunque ad essere prestante dinamico come sempre. Efficace. Ecco, efficace. E quindi, ok. Ecco, per me Edin Dzeko è un attaccante che accolgo nonostante l'età. E nonostante una trattativa che comunque va analizzata. Perché si parla ma ancora i dettagli veri e propri non li conosciamo. Si vocifera al momento che lui andrebbe a guadagnare 5 milioni e mezzo più bonus intorno quindi ai 6. E si parla di un biennale. Sono comunque delle cifre importanti però c'è sempre da considerare che alla Roma verserai solo un indennizzo di 1,52 milioni. Questo è quello che dice il Corriere, questo è quello che al momento dicono in tanti. Vediamo, vediamo. Aspetto le cifre definitive per valutarlo in questo senso. Però ragazzi al momento sembra essere dura andare a prendere qualsiasi giocatore e ci arriviamo dopo. Ci arriviamo dopo perché ci sono anche altre cose da dire. Quindi vediamo dal punto di vista delle cifre. Rimandiamo la valutazione. Detto questo ho sentito tanti, ho percepito la rabbia di tanti tifosi romanisti. Una rabbia che io condivido. Sono dall'altro lato della barricata ma è una rabbia che io condivido e che condivido sempre di più. Perché anche Di Geco si è ritrovato a confermarsi, diciamo, a confermare la sua dedizione, la sua dedizione per la Roma. Io penso solo alla Roma, aveva detto di recente. E invece alla prima occasione ha detto Dio. Ormai i giocatori, forse anche per contratto ragazzi miei, io non è che sto cercando di giustificarli. Ma sto cercando di giustificare ormai quello che è un fenomeno comune. Un fenomeno che riguarda tutti. Non solo Di Geco, non solo Lukaku, ma tutti. E quindi io credo che anche per contratto si ritrovano a dire cose che devono dire, no? Per facilitare qualsiasi genere di trattativa. E quindi dare peso alle parole dei giocatori ormai non serve a nulla. Ormai dobbiamo smettere di sentire qualsiasi cosa i giocatori ci vengono a dire. Perché vale zero. Ragazzi valgono solo i fatti, contano solo quelli. Non conta un bacio alla maglia, non conta una lettera d'amore verso i tifosi, non conta nulla da parte loro. È triste, è triste, è cinico. E ragazzi sarò anche cinico, ma è l'unico modo per prevenire. Altrimenti poi c'è da curare. Altrimenti poi c'è da curare. Questo è il discorso. E sono dalla parte dei tifosi romanisti. Sono dalla parte dei tifosi romanisti. Poi Di Geco, dal punto di vista temperamentale, c'è da dire che non è Celle. Ecco, ha avuto problemi con tantissimi allenatori. Poi anche il discorso legato alla fascia da capitano. Anche il fatto che qualsiasi offerta arrivasse, lui era sempre pronta ad accoglierla. E con l'Inter, e con la Juventus. Sta sempre lì, stava sempre lì vicino alla porta. Di questo credo che non abbia mai, in qualche modo, non l'abbia mai negato. C'è da dire anche questo. E quindi capisco, capisco in questo momento come possono sentirsi i tifosi romanisti. E non li piaceremo di certo. Va bene, ragazzi. Come dicevo, il problema è che Edin Geco non può essere il sostituto di Lukaku. Può essere il secondo barra terzo attaccante, sì. Preleverà, attenzione, con ogni probabilità la nove. Assolutamente. Questo secondo varie indiscrezioni, ok. Però, Edin Geco non può essere l'unico rinforzo per l'Inter. I motivi li ho espressi. E l'Inter sta lavorando a altri nomi. Secondo quello che ci raccontano. Perché io sono molto, molto, molto diffidente dei nomi che si stanno facendo in questo momento. E i tre sono ormai sotto gli occhi di tutti. Vlaovic, Zapata, Correa. Ecco, Zapata. Oggi abbiamo saputo, tramite Sky, che il sostituto, chi doveva sostituirlo? Abram non andrà all'Atalanta. Si lavora verso la Roma, si lavora verso l'Arsenal, se non vado errato. Ma Abram non sarà l'attaccante dell'Atalanta. E quindi, molleranno Zapata? Non credo minimamente. Non ci riguarda il discorso fa comodo all'Inter prendere Zapata. No. Sto cercando solo di andare a valutare in questo momento le trattative, quanto possono essere davvero percorribili. Non lo so. E questo significa che Zapata, se vuoi acquistarlo, quei 35-40 milioni devi sborsarli. Lo farà l'Inter? Non lo so. In questo momento mi viene da dire di no. Il nome che, tra quelli fatti, mi farebbe felice è quello di Vlaovic. Lo dico. È vero. Vlaovic è una scommessa. Vlaovic viene solo da un anno. Ma Vlaovic è anche un attaccante giovane. È l'unico attaccante giovanissimo di cui in questo momento si sta parlando. Allora, a questo punto, se devo andare a spendere cifre folli, le spendo per lui. Se proprio devo spenderli. Capite il mio ragionamento? Vlaovic, ragazzi, l'Inter sarebbe disposto a spendere 50-60 milioni. Ma è nella vita. Lo credo. Poi se vengo smentito, mamma mia. Sono il primo. Sono il primo a buttarmi dalla finestra. Per la gioia. Assurdo. Però, appunto, è percorribile? Non è percorribile. L'altro nome che avanza è quello di Correa. Addirittura Radio Radio ieri si vociferava, era tutto fatto, tutto pronto. Il giocatore va bene. Ma sapete che trattare quello titolo non è facile. È lo stesso Correa. Ci vogliono 30 milioni perlomeno. A 30 milioni conviene prenderlo? Non lo so. Però, ditemi voi, ad oggi forse è anche il più percorribile Correa di quelli menzionati. Questi sono i nomi fatti. Sullo sfondo l'estas camacca. E io non lo so. Io francamente non lo so in questo momento quanto ci sia di vero. Poi in tanti parlavano di Dumfries. Ma Dumfries, ragazzi, ci vogliono altri 15-20 milioni. Ecco. Che dite? Che dite? Io ad oggi ho tanta paura che l'Inter non versi queste cifre. Non abbia la disponibilità nel modo di farlo. Sarà che sono scosso dai repentini aggiornamenti. Sarà per questo motivo. In questo momento sono poco lucido, sono poco ottimista. Sarà per questo. Ma io in questo momento le vedo difficili queste trattative. Forse, tra le tre indicate, la più semplice è quella che riguarda Correa. E neanche semplice perché con l'Otito non è facile. Con l'Otito ci vuole il cash. Quindi? Non lo so. Quindi aggiorniamoci. Come dico sempre, aggiorniamoci. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, likeate se volete e iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Nesco e ci aggiorniamo. Ciao.